che serve come informazione la Valle di Susa e la Valsangone, oltre a altri territori, è impegnato in queste settimane, segnate così profondamente dal coronavirus, a un'informazione puntuale, dettagliata, comune per comune, della situazione. Sottolineando, direi anche in modo, almeno per dare un po' di serenità alla gente, le cose positive che riscontriamo nel nostro territorio, il tanto volontariato che aiuta le persone più in difficoltà e anche, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana, il successo di una persona, un amico nostro, che ha vinto, ha superato la malattia, il coronavirus, e quindi ha potuto tornare finalmente sereno alle sue attività. Questo è quello che gli diamo in maniera dettagliata a tutti, cercando quindi del migliore dei possibili, lavorando soprattutto a casa, perché i nostri redattori e le proprie ragioni lavorano a casa, le due redazioni di Susa e Giameno sono precedute da due dei nostri redattori che coordinano tutto il lavoro. Auguriamo a tutti i nostri elettori veramente di superare insieme questo momento di crisi.